A Sulmona c'è AttiStudio, lo studio di registrazione audio professionale. AttiStudio ti offre un'ampia sala ripresa e una comoda sala regia per la registrazione di brani musicali inediti, i jingles pubblicitari, sound design e il nuovissimo servizio di video musicali per YouTube. A breve anche il servizio sala prove professionale.